I giambonetti di pollo al forno sono pronti con questo meraviglioso spiedino di aglio al melograno. Ragazzi vi posso assicurare che è un piatto stratosferico, veramente buono. Si fa così. Eccoci qua, oggi prepariamo dei giambonetti di pollo che non sono altro che delle piccole cosce di pollo. Che sono eccezionali, a me piacciono da morire. Allora prendiamo una placca, eccoli qua i giambonetti. Dobbiamo prendere una ciotola, stranamente qua sotto, li metto qua dentro. Ok, con l'osso eh, attenzione con l'osso, metto un po' di pancetta, metto un po' di grasso, eccolo qua. Poi prendiamo del sale, qua così. Prendiamo della buccia di limone, e la facciamo qua così. Così, con anche un po' di bianco perché serve un po' d'amaro. Del pepe. Della salvia. Eccola qua. Aglio, chiaramente, due spicchi in camicia, eccoli qua. Facciamo una piccola incisione, così. Buttiamo dentro. Così, olio extravergine d'oliva ce l'ho. Ok. Così. Poi prendiamo del gin. Il gin ce l'ho qua, garafine. Questa quasi me ne avevo un po'. Ok. Lo facciamo marinare, così, per un bel po'. Tipo questa cosa, si può fare anche il giorno prima. Si mette in frigorifero, e poi dopo si va a cucinare. Bene. Facciamo fin da che sia passato un giorno. Ok. Prendo queste, le metto qua, così. Poi metto tutto quello che è qua, avanzato, dentro nella marinatura. Poi prendo della cipolla. Eccola qua. E prendo anche uno scalogno. Eccolo qua. Adesso vi faccio vedere che cosa succede. Due foglie di alloro. Vanno qua. Poi prendo lo scalogno. Con un po' di buccia lo mettiamo qua, qua così. La cipolla. Anche quella con la buccia. Qua così. Ok, bene. Olio extravergine d'oliva. Come se piovesse. Una noce di burro. Dentro così. Portiamo nel forno. Partiamo da 180 gradi. E poi, quando i giambonetti sono cotti, col grilli diamo altri 5-6 minuti. Ok? A 200. Vado nel forno. I giambonetti sono dentro. Adesso dobbiamo preparare un contorno. Attenzione. Faremo un piccolo contorno un po' strano. Allora, qui ho dell'aglio che ho sbollentato. Aglio gigante, come vedete. Che ho sbollentato per tre volte con latte. Cioè, ho messo latte, l'aglio pulito, l'ho fatto bollire, l'ho tolto, ho ricambiato il latte per tre volte. Quindi si è ammorbidito. Poi, che cosa succede? Prendo questo, uno spiedino, due spiedini, così. Mettiamo questo aglio, vi posso assicurare che viene fuori una roba, l'aglio, ancora, l'aglio barbiere. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Così è buonissimo. Vi posso assicurare che è buonissimo. Non so che qualcuno strorcerà il naso, ma chi se ne frega. A me piace. Uno spiedino, il barbiere è impazzito. Uno spiedino d'aglio, così. Vi posso garantire che è eccezionale. Restate a guardare. Vediamo. Allora, vediamo un attimo. Perfect. Accendiamo. Mettiamo. Zucchero. Zucchero di canno. Ok, eccolo qua. Mettiamo dentro così. Un bel po'. Succo di melograno. Lo mettiamo dentro così. Ok. Serve parecchio acido. Succo di limone. Putto un po' dentro così. Ok. Metto anche due gocce di aceto balsamico. Così. Prendo lo spiedino di aglio e lo metto dentro e lo faccio cuocere, cioè termino la cottura. Ok. Nel frattempo prepariamo un'altra roba. Cioè, vi faccio vedere che cosa faccio. Prendo della patata americana, dolce americana, che ho già precedentemente passato nel microwave. Quindi è già cotta. Un po' di burro. Così. Eccola qua. Una foglia di alloro. Facciamo sciogliere. Intanto, ogni tanto, lo spiedino bisogna girarlo. Così. Deve praticamente asciugarsi tutto questo, questo liquido. Deve andare a finire dentro all'aglio. Eccezionale. Eccezionale. Una ricettina che ho imparato in Turchia. Allora. Poi Turchia chiaramente lo fanno meglio. Però a me è piaciuto un sacco. Veramente un sacco. Cioè lo sbatto da tutte le parti. Allora, vediamo. Butto la patata qua, così. E faccio andare la patata qua. Voilà. Facciamo andare bel burro. I giambonetti dovrebbero essere quasi pronti. Ho detto quasi. Un tocco di peperoncino dentro, perché a me piace. Ce li facciamo anche un po' piccanti. Sbattiamo così. Voilà. Sì, due spessi li mettiamo. Siamo in Turchia. Un po' di pepe. Poi mettiamo dentro... Un po' di cardomomo. Dei chiodi di garofano. E ci facciamo del vin brulè. Ok. Voi non ci crederete, ma sono buonissimi. Va bene. Andiamo. Qui funziona tutto alla perfezione. Praticamente l'aglio deve assorbire tutto questo liquido. Diventerà leggermente scuro. Continua la sua bella cottura. Magari l'ho girato ogni tanto così, come sto facendo io. Oppure possiamo prendere anche un cucchiaio e inappiamo l'aglio così. Perfetto. Guardate che roba. Adoro. Di profumi. La patata sta andando. La devo girare. Pure lei. Dopo. Questo è un piatto, cari amici, da condividere. Quindi possiamo fare un bel impiattamento. Ci siamo quasi. Avete visto? È tutto abbastanza facile. Avete visto? È tutto abbastanza facile. Lo spiedo di aglio con il melograno sta andando. Le patate dolci americane sono pronte. I giambonetti stanno nel forno. Alla fine è un piatto che possiamo anche dimenticarcelo che è tutto nel forno. Fa tutto lui. Giusto prepariamo questo piccolo contorno. Ma un po' di tempo in cucina bisogna perderlo, no? Siete d'accordo con me? Va che roba. Va che roba che incomincia a glassare. Va che roba. Va. 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 Allora, secondo me, ciuccia ancora un po' di succo di melograno. Sì, mettiamocene un altro po'. Direi quasi perfetto. Vediamo se i giambonetti sono pronti. Ancora qualche minuto di cottura. Dobbiamo salare le patate. In realtà, per esempio, questo spiedino di aglio, se lo facciamo, per esempio, cotto al barbecue e facciamo la salsa al melograno a parte e gliela mettiamo sopra, è ancora più buono. Però è normale che in casa, mi chiamo, al 56esimo piano di un grattacielo, bisogna avere il barbecue americano, quello che si chiude. Quindi, in piastra no, o barbecue a legna, oppure facciamo come ho fatto io, in padella. Così. Eccoli qua. Siamo pronti per l'impiattamento. Guardate che meraviglia. Eccoli qua. Allora. Eccoli qua. I giambonetti sono pronti. Escono dal forno. Super. Allora. Abbiamo detto che è un piatto da condividere. Qua così. Allora, eccolo qua. Poi mettiamo dentro uno scalogno. Mettiamo dentro l'aglio. Mettiamo dentro una cipolla. Eccola qua. E l'appoggiamo qua. Così. Poi. Andiamo di patate. Una patata qui. Un'altra qui. Un'altra qua. Poi, a questo punto, mettiamo anche l'alloro. E lo piazziamo qua. Così. Ok. Peperoncino. Va così. Poi. Lo spiedo che è pronto. Lo spiedo di aglio. Guardate che meraviglia. Eccolo qua. Lo piazziamo qui, così. Voilà. un po' di sughetto. Non è finita. Prendiamo un po' di burro di cottura. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccoli qua. Eccoli qua. I giambonetti di pollo al forno sono pronti Con questo meraviglioso spiedino di aglio al melograno Ragazzi vi posso assicurare che è un piatto stratosferico Veramente buono Quindi buon appetito a tutti Guardate che meraviglia Voilà, eccolo Grazie a tutti